spero che non sia un problema perché di tutto abbiamo bisogno tranne che di problemi in maggioranza spiace che il pdi abbia problemi interni che costringono zingaretti a dimettersi matteo salvini leader della lega si esprime così dopo l'annuncio di nicola zingaretti che si dimette dalla carica di segretario del partito democratico noi dice il leader del carroccio oggi stiamo lavorando coi ministri della lega per produrre vaccini in italia per rottamare 65 milioni di cartelle esattoriali per far arrivare rapidamente i rimborsi attesi a 3 milioni di partite iva professionisti e imprenditori dalle parole ai fatti non mi occupo di dimissioni e mi dispiace per i problemi degli altri parti io sono stato al mef e al mise per le cartelle elettorali e per i vaccini dice quindi salvini lasciando palazzo giustiniani dopo aver incontrato la presidente di palazzo madama elisabetta casellati se chiamerò zingaretti no penso che abbia altri problemi non vorrei crearne altri spero che non sia un problema perché di tutto abbiamo bisogno tranne che di problemi in maggioranza conclude